Questa è la versione Artop HT, infatti non c'è il flybridge sul tetto ma c'è il tetto apribile di questa fantastica Gran Turismo 50. La versione Artop senza flybridge ti permette appunto di avere una barca aperta, infatti è abbastanza aprire questo tetto. Se non ti bastasse l'aria che è tanta con l'apertura completa, un tetto aperto di queste dimensioni, possiamo anche abbassare, come vedi, completamente la finestratura laterale, sia a destra che a sinistra, quindi la reazione di questa barca diventa pari a quella di un open. Non ho sbagliato barca, siamo sul flybridge di questo Gran Turismo 50, Fly Sport, e guarda qua l'eleganza e gli spazi che abbiamo. Console completamente attrezzata per la navigazione, ovviamente, abbiamo quindi i joystick e le manette elettroniche, spazi un po' dappertutto dove rilassarsi e prendere il sole. È possibile completare questo divanetto anche a prendisole, semplicemente spostando gli schienali, mettendoli qua in questa posizione e quindi poterti rilassare tranquillamente, oltre al divano proprio di fronte a me che adesso ti vado a mostrare. Che fanno le differenze, che si fa la differenza nelle cose, molte volte si dice che sono i dettagli. Guarda i dettagli di questo tavolo, le piantane. Benetton in questo caso veramente non ha ballato a spese, ha voluto fare una cosa solida che restasse veramente nel tempo, oltre a essere il massimo dell'eleganza. Infatti questo tavolo ribaltato è fatto molto bene, si vede, si vede dai dettagli, si vede dagli spessori, oltre al fatto che essere un comodissimo divanone per poter ospitare cinque, sei, sette persone. Dinette centrale veramente veramente elegante. Guarda la combinazione dei materiali, la combinazione dei colori, hanno fatto veramente un lavoro eccezionale, è un salotto di casa, confortevole, comodo e bello da vedere. Plancia di comando, torre di controllo, la tua plancia di comando del comandante di questa barca. Benetton oltre a tutti gli accessori, al fatto dell'estetica di questa fantastica console, ha anche installato lo ship control, che è un sistema di domotica, sostanzialmente da questo pannello tu potrai controllare non solo la navigazione e il motore, ma anche tutti gli accessori, le luci, i volumi delle radio, differenziare l'impianto elettrico, insomma hai tutto quanto sotto controllo, semplicemente da questo monitor con tutta questa attrezzatura. Ma andiamo a scoprire il dentro della barca, andiamo a scoprire le cabine, la zona dei bagni e tutto quanto all'interno di questa barca, seguimi. Scendendo dalle scale c'è proprio di fronte a te questa fantastica cucina, piano di lavoro comodo, pratico da utilizzare, non è solo fighetta questa barca, è veramente comodo da poter utilizzare, un frigo assolutamente con le dimensioni di quello da casa, ma una bella casa, non sicuramente una casetta di montagna e tutta quanto all'arredo che ti può servire. Puoi installare ovviamente anche una lavastoviglie e un ulteriore frigorifero in cucina. Se sei un amante dei divani e non ti interessa avere la terza cabina, puoi anche allestire quest'angolo con il divano, proprio di fronte alla cucina, magari che ne so, stai lavorando, hai bimbi, hai voglia di stare con qualcuno e non ti interessa l'altra cabina, non fai altro che ordinarti una barca in questa modalità. Versione tre cabine, andiamo a scoprire la terza cabina di questa barca, partiamo proprio dalla terza, sono riusciti a ricavare uno spazio veramente importante, andiamo a vederla. Alla mattina presto, delle volte non è così facile alzarsi, specialmente se dormi in una cabina, che sarebbe la terza cabina, ma due letti separati, la possibilità di completarlo farò diventare un max size a matrimoniale, fantastico spazio, dimensioni incredibili. Dietro questa porta il bagno che serve tutta quanta la barca, ma che serve anche gli ospiti, infatti abbiamo il bagno proprio della camera, VIP, con doccia separata. Gli spazi e le altezze sono notevoli, ricordiamoci che ci sono sempre sul GT, quindi la barca sportiva, da 50 piedi. Un secondo bagno, perché quello dell'armatore, ovviamente dell'armatore, che serve sia tutti gli ospiti, la camera VIP, ma con la doccia separata, ora mi trovo nella doccia. Camera di prua, camera VIP, ospiti VIP, infatti li devi trattare bene i tuoi ospiti, se vuoi che tornino e se vuoi fare bella figura. Con una cabina del genere, sicuramente brutte figure non ne fai, altezze sul letto, spazi laterali, divanetti e mobiletti un po' dappertutto sulla barca e dentro questa cabina qua. Se dopo i tuoi ospiti litigano, puoi anche separare i letti, quindi non è un problema per quello. Molte barche di pari taglia, hanno questa cabina, quindi la VIP, come camera armatoriale, quindi come camera principale con questi spazi. Noi semplicemente ci ospitiamo gli ospiti, perché per te, quindi armatore di questa barca, c'è una camera tutta speciale, che adesso andiamo a vedere. Ma seguimi, andiamo a scoprire veramente questa camera armatore. Vieni. Letto centrale sulla longitudine della barca, quindi sulla stessa diagonale. Baglio, baglio, quindi vuol dire che abbiamo la barca, che abbiamo questa cabina che sposa tutte e due le pareti della barca, quindi abbiamo il massimo della larghezza, siamo in centro alla barca, di conseguenza lo spazio di questa cabina armatoreale è eccezionale. Se dopo hai magari un bambino piccolo, perché no? O altrimenti se hai un figlio come me che ha sonno, lo puoi mettere tranquillamente anche qua a dormire e a riposare tranquillamente. La privacy e gli spazi non sono mai troppi, infatti abbiamo un bagno separato, con la toilette separata, la doccia separata, il lavello a vista. Questo permette di accedere tranquillamente al bagno, al nostro lavello, accedere tranquillamente la doccia e avere la cabina separata solo per la toilette. I francesi impazziscono per questa. Ho quasi finito eh? Ancora un momento che finisco e poi torno da te. Bene, ti ho mostrato tutti i dettagli di questa barca, o meglio, la maggior parte dei dettagli della barca, perché tra poco, forse tra un mese o un paio di mesi, riusciremo anche a testarla in acqua e in quell'occasione non farò altro che farti vedere proprio nello specifico tutta tutta quanta la barca. Ma tutte le informazioni di questa barca, i dettagli, mica posso star qua a spiegarti la lunghezza, il peso, le specifiche, perché non lo faccio, perché ti annoierei. Mentre invece se ti interessano questi numeri, quindi tutti i dettagli tecnici di questa barca, non devi far altro che andare alla base di questo video e cercare nella descrizione metteremo tutte le informazioni che ti possono servire. Se non ti bastassero, e me lo auguro, che vuoi maggiori informazioni, anche mari commerciali, troverai anche tutti i nostri contatti, le mail, gli indirizzi, i numeri di telefono, per metterti in contatto con noi e venire a scoprire e magari, perché no, fissare un appuntamento per una prova di questa fantastica Gran Turismo 50. Non perdere altro tempo, contattaci subito per fissare un appuntamento, quindi da Cannes, non mi resta altro che dirti buon vento e occhio sempre al meteo.